Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast può trovare sul nostro profilo Instagram OneMoreTimePodcast Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione Io sono Luca e questo è OneMoreTime Come stai? No, se sei più bello di me non va bene Eh, magari, magari Sono molto contento di essere Non guardiamo le camere, non guardiamo niente Adesso sono a posto Se un ragazzo dovesse venire da me e dirmi Ma qual è il segreto per arrivare a Hollywood a fare un film? Io rispondo sempre questo Io, personalmente, non ho mai avuto un piano B Per me o andava, o andava, oppure andava Non era, vabbè dai se non ce la faccio poi vaffanculo Mi troverò un lavoro in teatro Cioè per me non esisteva al mondo che io non arrivassi a Hollywood a girare un film Questa si chiama passione Io sono ossessionato dalla mia vita Io sono un edonista Io sono un tossico della mia vita Sono tossico della mia passione Allora Michele, intanto sono contento di conoscerti perché non ti conoscevo Nel senso che Mi dicevano in studio da noi musicale che vai spesso a registrare E mi diceva Sai, viene Michele Morrone Io li guardavo con un po' di imbarazzo perché mi sentivo io a disagio nel non saperlo E mi diceva Ma non lo conosci Ma è famoso in tutto il mondo Ma è più l'universo femminile che mi ha spiegato chi sei E anche donne che magari non hanno più come priorità quella dell'attività sessuale quindi magari anche un po' attempate sono molto attenti al tuo nome e cognome ti conoscono molto molto bene Tra l'altro sto vedendo adesso che stai facendo il podcast scalzo Sì, io in realtà sto sempre scalzo cioè anche a casa appena ho l'opportunità di stare scalzo sto scalzo quindi dato che volevo un po' sentirmi a casa mia E lo sei Io ho detto ti ringrazio Io ho pensato di farla scalzo anche perché mi dà questo senso di libertà quindi sono venuto vedi senza camicia senza Hai già visto One More Time? Ho già visto One More Time perché uno dei miei più cari amici abbiamo appena stabilito un matrimonio d'amicizia io e Andrea Presti che è venuto qui e io mi sono confrontato con lui Che bel nome che mi fai bella persona Non riesco a trovare aggettivi giusti per descriverlo Andrea è tutto ciò che non sembra È verissimo Andrea è tutto ciò che non sembra è una contraddizione unica quando pensi a un culturista pensi a un ammasso di muscoli che alza pesi invece lui diciamo così secondo me è l'unico filosofo nel mondo del bodybuilding Il filosofo della ghisa Il filosofo della ghisa, sì Ti alleni con lui? No Non mi alleno con lui però lui mi segue l'alimentazione mi segue l'allenamento Insomma Ok Allora ti ho chiesto se avevi visto One More Time perché da questo momento in poi ci facciamo un super viaggio nella tua vita da quando nasci dove nasci in che contesto sei nato fratelli, sorelle amore profuso hai ricevuto arrivando fino ad oggi per capire esattamente perché tu sei così perché le radici dell'infanzia impattano molto nella vita adulta Io ho visto solo la tua intervista perché credo che in Italia tu abbia fatto poco se non promozioni di film dico un'intervista un po' più Michele un po' più persona mi è piaciuto molto il modo in cui parli della libertà nell'educazione con i tuoi figli che forse avrai ricevuto l'esatto opposto e quindi normalmente avviene in quel modo però adesso partiamo da te racconti tu quando nasci in che città e in che contesto Allora io sono nato il 3 ottobre del 1990 alle 3.52 di notte dalla pancia di mia mamma Angela Parisi sono il figlio più piccolo di quattro ho tre sorelle che sono più grandi di me nasco in un contesto assolutamente umile diciamo che i miei genitori mio papà mia mamma hanno sempre dovuto guadagnarsi il pane anche in modo diciamo difficile mio papà era un ora non c'è più perché è venuto a mancare quando avevo 12 anni perché aveva una malattia che si chiamava Alzheimer in contrapposizione con il morbo di Parkinson durato tre anni insomma dalla scoperta della malattia poi è venuto a mancare in che città nasci? io sono nato a Bitonto provincia di Bari ok quindi a sud Italia mio papà era un muratore che lavorava tantissimo si alzava al mattino presto tornava la sera tardi mia mamma invece accudiva le mie sorelle e me non lavorava quindi? non lavorava mia mamma non lavorava mia mamma ha iniziato a lavorare una volta che mio padre si è ammalato perché la demenza senile ha preso il sopravvento della mente di mio padre di conseguenza non era più autonomo e di conseguenza si è dovuta insomma impegnare perché prodigare per mantenere la famiglia esattamente sì le mie sorelle allora erano già diciamo così abbastanza grandi tra virgolette autonome quindi cominciavano già a lavorare quant'altro io ero ancora piccolo quindi mia madre ha lavorato nelle mense ha fatto diciamo un sacco di lavori faceva qualche lavoretto a casa perché le persone del quartiere andavano da lei a chiedere se poteva aggiustare qualche cerniera perché insomma era anche una brava ed è tuttora una brava sarta per guadagnare insomma qualche soldino così e come erano da un punto di vista di affetto i tuoi genitori ti dicevano che ti amavano ti coccolavano passavano del tempo con te allora a giocare intendo i miei genitori non erano assolutamente persone malvagie cioè non erano come di solito c'è sempre no sono stato trattato male non ho mai sentito amore e quindi i miei genitori erano persone estremamente basiche stiamo parlando di un abitonto degli anni 40 mio papà era del 45 mia mamma del 55 quindi sono cresciuti in un contesto povero un contesto anche ignorante culturalmente arretrato insomma i miei genitori non hanno goduto dell'istruzione scolastica quindi ti fa intendere che non erano gente anche i miei nonni venivano dalla guerra quant'altro non erano persone che erano abituate a ricevere amore e dimostrazioni d'amore e di conseguenza i miei genitori non mi dicevano ti voglio bene te lo facevano capire attraverso altre cose assolutamente ma non lo esplicitavano in maniera così non lo esplicitavano dicevano ehi ti voglio bene oppure mio padre è il mio campione no non era proprio ti amo era una parola proibita quasi ti amo era una parola proibita non dico proibita però non pronunciata però era più te lo dimostro cioè mia madre per dimostrarmi amore mi dava i morsi alle mani cioè mia madre mi mordeva le mani sai che lo fanno anche i bambini a volte dice un bambino cavolo ammorsicato l'altro lo fanno perché sono felici in quel momento c'è un nome tecnico in realtà questa cosa che si chiama l'altro giorno lo leggevo perché dicevo cazzo ma io mordo sempre le mani della mia fidanzata ma che cazzo perché e quindi poi mi sono si chiama un nome tecnico e adesso mi sfugge tipo affezione qualcosa insomma comunque ha un nome tecnico mia madre mi dimostrava mi ricordo mi dimostrava a parte che ho preso un sacco di botte da mia madre perché insomma non era un ragazzino del tutto facile da gestire però mi ricordo che non ho mai sentito un ti voglio bene ma mi mordevano insomma giochieregliavano con me ecco mio padre era uno un po' più che cazzo cosa vuol dire ti voglio bene vai a scuola fai le cose vai a casa era pratico era uno molto pratico cioè per dirti non ho mai avuto l'opportunità di dire a mio padre ehi papà voglio fare l'attore però immagino conoscendo il soggetto che se avessi dovuto interloquire con mio padre e dirgli papà guarda ho la passione per la recitazione lui mi avrebbe detto ma che cazzo è la recitazione cosa dici dai vai a lavorare sì perché lui era abituato alla fatica alla manualità non a quel tipo di arte esattamente questa roba qua era allora tu mi hai detto che eri un po' esagitato quindi tua madre ti raddrizzava ti dava un po' di botte per educarti raccontami la tua infanzia ma io la mia infanzia è stata quella di un ragazzino assolutamente sempre a Bitonto? no l'abbiamo fatta su noi ah quindi dopo poco poco dopo la tua nascita vi siete trasferiti subito su dove? a Meleniano ok quindi adiacente a Milano esattamente la mia infanzia è stata quella di un ragazzino comune come tanti altri ero felice anche se in realtà questa cosa poi l'ho capita poi cioè il peso della malattia di mio padre dei soldi che mancavano io l'ho scoperto in età avanzata perché da piccolino i miei genitori mia mamma faceva di tutto per farmi avere che ne so il regalino che volevo a Natale cioè non ti accorgevi delle difficoltà te ne hanno parlato quando sei limitato più maturo io mi accorgevo delle difficoltà quando parlavo con i miei amici a scuola per dirti per le differenze per le differenze perché io che ne so mi ricordo andavo a scuola c'erano tutti quelli con il gioco che ne so che mio papà mi ha regalato questo io sì ce li avevo cioè anche mia mamma me l'aveva regalata quella roba però mia mamma non mio papà mio padre non sapeva neanche dove andava a scuola quando stava bene diciamo non era uno ma poi lui l'ha avuto in età molto avanzata perché ho fatto due calcoli tu sei del 90 quindi avevi 12 anni mio papà è morto nel 2003 2003 io avevo 12 anni quando è morto e lui neanche 60 56 però visto che a livello di amore era pratico ma era poco romantico nel rapporto con il figlio quando hai saputo che stava male e quando hai saputo che forse mancavano pochi giorni come l'hai vissuto tuo padre? è cambiato il tuo rapporto con lui? ti sei avvicinato diversamente tu? io da subito mio papà non è stato più lo stesso cioè stiamo parlando di un uomo che era un padre padrone che dettava regole che era uno molto severo che quando ti guardava ti metteva ti gelava il sangue quindi quando lui si è ammalato di questa malattia lui è regredito cioè lui è diventato come se fosse un agnellino un bambino che non capiva nulla con il pannolone che non parlava bene quindi mio papà fondamentalmente parlando l'ho vissuto dagli zero ai nove anni dai nove ai dodici non era lui lui era un uomo ammalato non era il mio papà però in quel momento il tuo papà che non era più l'uomo granitico tosto tutto d'un pezzo te lo sei goduto come quando era un cucciolone o quasi si è abbassata la tua stima perché hai detto dov'è il mio guerriero cioè che cosa hai vissuto dentro di te io vivevo solamente le disperazioni di mia madre che lo portavano in due per tre cioè io non ho mai visto mio papà come il mio eroe cioè mio papà ha due fasi nella mia vita mio papà è un uomo padre padrone che fa paura e poi c'è mio papà ammalato quello da acudire quello che cioè io non ho mai visto mio padre come che poi ha fatto un sacco di cose belle per noi nella mia vita però io personalmente non ho mai avuto l'opportunità di vederlo e parlargli da uomo cioè l'ho visto sempre come un bambino che fa casino in casa lui si sclera piglia sfonda un telecomando per terra perché non ha pazienza oppure dal mio papà ammalato che si alza perde l'equilibrio cade per terra si sfonda la testa quello è cioè io mio papà per me è sempre stato un problema cioè o era sempre incazzato e comunque aveva anche il vizio del bere oppure era ammalato quindi io mio padre non è che abbia un bel ricordo poi per carità era un bravissimo lavoratore come tanti lo dipingono come un grande lavoratore e sicuramente lo era cioè comunque parlo mio papà era un grandissimo lavoratore cioè lavorava dalla mattina alla sera e non faceva un lavoro d'ufficio cioè si rompeva il culo capito in cantiere col caldo col freddo quindi anche lui poi in realtà ha avuto una storia con i suoi genitori che erano gente ignorante e quindi non aveva ricevuto amore quindi insomma ma non sono un nostalgico di affetto quando tuo padre è venuto a mancare che eri l'unico uomo di casa hai dovuto fare l'uomo di casa a 12 anni o invece era tua madre assolutamente no tua madre portava i pantaloni più che comandava tua madre aveva il timone mia mamma portava i pantaloni mia mamma è sempre stata la donna forte intelligente mia madre è sempre stata la donna razionale sì allora guarda ti dico non portavo i pantaloni però in realtà sono diventato molto più libero cioè se ci fosse stato mio padre probabilmente non avresti fatto quella carriera lì sicuramente sì perché io non la mia passione per la recitazione per il cinema non dipende da mio padre perché io ho scoperto di voler far l'attore molto prima che mio padre si ammalasse a che età? 7-8 anni e come l'hai capito? l'ho capito perché l'emozione che mi dava fare le recite a scuola non era una cosa del tutto normale cioè sì vabbè uno fa la recità di Natale poi finisce lì io invece a me piaceva in modo particolare ok capito? ti piaceva essere applaudito ti piaceva essere guardato quale parte ti piaceva? no no mi piaceva vivere in un mondo che non fosse il mio probabilmente ok era semplicemente il puro e solo piacere di recitare cioè io non volevo non essere qualcun altro io ero felicissimo di essere me stesso mi divertivo molto essere me stesso io ero il mio migliore amico però in realtà mi piaceva recitare cioè non ci sono sfumature sfumature mi piace recitare interpretare qualcuno tu mi hai detto che eri un po' tosto da gestire da piccolo e io ho saputo che hai avuto un accoltellamento un problema a che età è successo? questo è successo in età 18-19 anni ok quindi già più avanti perché? è successa questa cosa in una discoteca è praticamente la classica cazzata per le ragazze vorremmo dimostrarci io questo tizio volevo giocare a chi ce l'aveva più lungo e probabilmente abbiamo portato questa cosa troppo in là io ho tirato un cazzotto questo ragazzo questo ragazzo ha risposto c'è stata una rissa e nell'azzuffarsi questo tizio aveva praticamente una specie di come si dice un pezzetto di legno sì e quei cosi che usi per avvitare sì tipo le bottiglie dove c'era questa una specie di mini chiodino sporgente sporgente mi colpiva addosso con quel coso non è proprio un vero coltellamento ma ti ha lasciato dei segni? mi ha lasciato dei segni ok ti sei calmato da quel momento o perché mi hai detto mio padre spaccava il telecomando per terra eh mio padre era uno molto facile alla rissa cioè fisico era uno molto fisico cioè il suo motto mi ricordo sempre era una parola è poca due sono troppe ok ma adesso visto che comunque facendo un determinato lavoro puoi avere molte sollecitazioni assolutamente riesci a gestire l'ira o no? allora diciamo che io ero sono sempre stato diciamo vispo in età adolescenziale poi crescendo cioè i tuoi interessi sono altri cioè di certo non mi alzo la mattina e voglio dare un cazzotto però se uno oggi ti provoca riesce a contare fino a dieci e a girarti altra parte fai ancora fatica sì perché io ho tanto da perdere cioè la mia carriera è la cosa a cui tengo di più al mondo cioè ovviamente senza essere troppo banali senza diciamo dopo i miei figli mia madre insomma i miei affetti però io sono un grande calcolatore cioè se ci ho messo tanti anni per arrivare al livello in cui sono non vuoi distruggere tutto e diciamo sai che faccio che faccio una rissa però ti sei reso conto che nelle volte in cui non ti sei buttato dentro ma ti sei girato d'altra parte per motivi di salvaguardia di cosa qui tieni se non è stato forse meglio così se non ti hai insegnato perché io anch'io il sangue caliente ti parlerei al passato sono più di 15 anni che sono in Ramadan totale perché ho capito che o girarti dall'altra parte o dialogare con la persona e chiedergli perché sei arrabbiato perché forse lui l'hai colpito in una cosa e ti sta dimostrando la sua ira con le mani ma se tu risolvi quella cosa lì non c'è bisogno di andare oltre assolutamente e quindi mi hai insegnato molto ho capito che questa è la vita perché mio padre era un ex legionario quindi era abituato capirai ce la risolviamo così certo nel senso non è tanto chi c'era più lungo un tempo è chi era più forte stringeva la mano all'altro oggi ti vengono a prendere in 50 sotto a casa è cambiato tutto assolutamente certo ti voglio chiedere se sei maturato da quel punto di vista ma te lo dico per te perché poi sai guarda io sono allora ti dico la verità io anche quando ero adolescente che magari mi capitava di fare la scazzottata di turno sono sempre stato il primo a chiedere scusa anche se avevo ragione perché non me ne fregava niente di litigare con la gente cioè i miei obiettivi erano già altri è chiaro che poi c'era quello che insomma insisteva con la tua fidanzatina e diceva cazzo cosa vogliamo fare cioè si risolve mi ricordo una volta non farò nomi perché questa persona se sente questo podcast lo saprà mi ricordo che questo tizio qua continuava a provarci con la mia fidanzata e gli avevo detto senti facciamo così alle 5 ci troviamo in piazza a che età ci siamo ma 17 18 anni ci hanno trovato in piazza e questo tizio qua si era presentato con una schiera di 15 persone io ero da solo e però era scattata sta risa io e lui gli altri non si erano messi in mezzo e poi era finita lì così e era finita con una denuncia così che avevo preso per aggressione e poi è finita con una stretta di mano e via andare facciamo un rewind raccontami il rapporto con le tue sorelle perché tre sorelle femmine poi quando non c'è più tuo papà forse avete passato ancora più tempo insieme che rapporto avete? abbiamo un rapporto assolutamente strabiliante noi siamo molto molto legati con tutte e tre con tutte e tre c'è un grande dialogo fra noi ci amiamo molto ultimamente abbiamo litigato per una cazzata però poi insomma si risolve abbiamo un rapporto estremamente bello loro hanno dei figli ho sei nipoti ancora in età sono piccoli a parte Rebecca che ha 17 anni anzi quest'anno fa 18 anni devo fare anche il regalo e no un rapporto assolutamente bellissimo senza nessun tipo di astio siete legati? molto legati molto quando cominci la carriera da attore? nel senso dai 7-8 anni capisci già dalle recite che ti piace quando è che ti impegni? impegnarsi vuol dire nel tuo caso studiare? studiare edizione recitazione scuola di teatro cosa hai fatto? io non ho mai fatto nulla di tutto ciò perché avrei voluto molto farlo ok avrei voluto molto studiare impegnarmi andare in un'accademia a fare edizione però purtroppo mancavano i soldi mancavano i soldini ecco mia madre era già molto difficile mantenere quattro bocche con la sua insomma volevo farlo però in realtà non ho mai avuto l'opportunità concreta di poterlo fare ok allora diciamo che io mi ricordo da quando è uscito il film Harry Potter e la pietra filosofale ok io mi sono detto senti ma vediamo se riesco a fare qualcosa anch'io e mi ricordo che stampavo andavo in ufficio da mia sorella che lavorava all'ospedale e le chiedevo di stamparmi dei monologhi di alcuni film e poi li portavo a casa e me li studiavo ma non me li studiavo in modo normale cioè me li studiavo e cercavo di capire che cavolo diceva il monologo mi ricordo mi ricordo avevo 11-12 anni insomma anzi 12-13 così quando hai cominciato a fare questa cosa cioè Harry Potter ti ha ispirato perché era un bambino come te sì probabilmente non hai tutti i torti dicevo cazzo però se l'ha fatto lui perché non posso farlo anch'io e quindi questa cosa qui è stata un blessing per me perché mi ha spinto a farlo da me quindi io andavo in ufficio come dicevo di mia sorella mi facevo stampare questi monologhi e mi ricordo questo particolare che le feci di stampare adesso mi sta venendo in mente tutto adesso perché poi queste cose qua non ci penso mai mi sta un po' un monologo tu pensa di del film il mostro di Benigni certo quando lui si propone come nuovo amministratore e lo facevi davanti allo specchio? io lo studiavo e lo facevo no però mi ricordo lo facevo quando non c'era nessuno in casa da solo? da solo lo studiavo poi lo facevo davanti allo specchio mi ricordo e lì ti sei sentito che ce l'avevi? che avevi questa roba dentro il DNA che ce la potevi fare? io non so se ce l'avevo o no questa cosa dentro so solo che mi piaceva tantissimo tantissimo farlo e quindi poi ho iniziato ad approfondire la storia dai monologhini infatti così sono andato in biblioteca ho fatto una piccola ricerca su internet per capire se c'erano dei manuali di recitazione così mi ricordo che a 13-14 anni iniziai a leggere il metodo Stanislavski che è un mattone bel tomo in realtà poi a 14 anni quando leggi Stanislavski non capisci non capisci niente certo c'è assolutamente nulla di quello che dice e poi la vera e propria cosa è stata quando sono stato alle superiori che nel doposcuola davano l'opportunità ai ragazzi che volevano farlo diciamo c'era questo corso di recitazione che si faceva dopo scuola ed io ero l'unico a farlo cioè nessuno tutti andavano a casa non volevano l'ora di tornare a casa alla scuola e io ero l'unico a fare questo corso cioè io mi ritrovavo io e questo insegnante è stata una bella opportunità alla fine sì in realtà non era proprio un corso di recitazione era un corso di improvvisazione cioè loro ci dicevano mattita bottiglia d'acqua improvviso va in freestyle questo è un grande step che ho fatto perché mi ricordo questo insegnante che si chiamava Franz che lui insegnava al teatro Fraschini di Pavia ok che peraltro è uno dei teatri più belli di Europa e lui mi disse senti facciamo così ti va di fare lo spettacolo di fine anno al Fraschini di Pavia e io gli dico certo assolutamente ma quando mi ricapita c'è un teatro così facciamolo e mi ricordo che mi propose questo testo di Garzia Lorca che si chiama Il gatto di Noè che narrava del genocidio armeno accaduto insomma anni fa e io interpretavo questo essere che non era né carne né pesce non era un uomo non era nulla era la coscienza del protagonista quindi eravamo sempre insieme in scena e io mi ricordo che avevo questi mallopponi questi monologhi difficilissimi a imparare da 90 97 pagine di copione che io mi misi su quel copione durante l'anno scolastico cominciai a prendere tutti i due a scuola non me ne fregava assolutamente più nulla della scuola matematica storia geografia eri focus su quello io andavo a scuola non aprivo manco i libri durante le azioni ero focus su quel copione che dovevo fare quello spettacolo e ce l'hai fatta e poi sì ce l'ho fatta abbiamo fatto questo spettacolo al Fraschini di Pavia nel 2012 io allora avevo 21 anni 22 anni e andò molto bene e andò molto bene perché poi c'era anche il console armé insomma era uno spettacolo era la prima volta che ti mettevi alla prova era la prima volta in cui mi mettevo alla prova veramente mi ricordo che c'erano veramente 6-700 persone nello spettacolo non volava una mosca io tremavo come un coniglio ero spaventatissimo e mi ricordo quando quando sono salito sul e mi ero preparato tutti i mesi e mi rispia mi impiasco il palco mi dimentico tutte le pagine studiate il copione e io guardo tutto così e tutti il console armé era così che mi guardava così e poi è successo che ho iniziato a Canobaccio pa 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 e il ricorso al no uno mi dava una battuta ah ok No, iniziato improvvisando, poi uno mi ha suggerito una battuta e ho ripreso da lì, e poi è andato liscio. Si è andato liscio. La scuola la finisci? La scuola la finisco, prendo la maturità, il minimo era 60, a me danno 60 e un calcio in culo, mi dicono vattene via, basta, fai quello che vuoi fare, insomma, la recitazione e quant'altro. E lì una volta presa il diploma, che era quello che volevo prendere per togliermi dalle palle sta scuola, che non ce la facevo più, di fare cose che non mi piacevano. A che età, 19-18? Io ho preso il diploma a 19 anni perché sono stato bocciato un anno all'ITIS, e lì è iniziata l'avventura della mia vita vera. Dai 19 ai 21 fai questa rappresentazione, la tua prima grande prova, con un bel copione da quasi 100 pagine, ma dai 19 ai 21, dalla maturità a quel giorno, cosa facevi tutti i giorni? Assolutamente nulla. Io studiavo i miei copioni e basta. Io non facevo altro che recitare. Cioè tu eri, era il tuo sogno, hai detto io voglio diventare un attore. Io ero assolutamente un tossico della recitazione. Cioè, lo sono tuttora, però grazie a Dio, diciamo, ho più cose da fare, perché sennò impazzirei. Mi ricordo, io in quel periodo non facevo altro che guardare film, intossicarmi di film degli attori che più mi piacciono, imitarli, capire, perché era la mia sola e unica vera scuola di recitazione. Cioè io non potendo pagarmi un corso di recitazione, che cosa fai se sei, diciamo, uno che veramente ci tiene? Vai, ti pigli un film di un attore che ti piace e guardi quello che fa, come lo interpreta, come reagisce alle battute. L'attore che ti ha ispirato di più? Ce n'è uno che proprio ti, mi interessa molto? Gary Holtman. Gary Holtman è stato uno dei miei più grandi ispiratori. Il primo titolo che hai visto? Dracula di Bram Stoker. Il Dracula di Bram Stoker è stato per me una rivelazione incredibile. Cioè io quando ho visto quel film, pensa che è stata una rivelazione anche un po' creepy, perché mi ha fatto una paura della Madonna. Quel film là mi ha spaventato a morte, perché stiamo parlando di sadismo, erotismo, satanismo, quindi un sacco di cose assurde. Poi chiaramente c'è la storia del vampiro, proprio gira intorno, diciamo che è una delle, Coppola ha girato una delle storie d'amore più belle mai state fatte nella storia del cinema mondiale. E quella storia lì mi ha spaventato e affascinato così tanto. L'interpretazione sua di Holtman mi ha detto cazzo ma io voglio fare questa cosa. Io vorrei essere lui. Perché io non sono lì a fare questo film? E quindi questo è stato… Quante sigarette fumi al giorno? Devo risponderti. 25-30. Wow. Sì. A che età hai cominciato? 11, più o meno. 11 anni? 11-12 anni, sì. Ok. Prima media, ecco. Sì. Però è l'unica cosa che faccio, perché in realtà di vizi io non ne ho tanti. Ho solamente la sigaretta. Ho completamente eliminato l'alcol della mia vita. Ok. Non faccio uso di sostanze stupefacenti, non mi drogo, non mi fa schifo la droga. Allora, in realtà non è che mi… Cioè, la droga, che poi l'ho anche provata in passato, cioè non mi fa schifo, mi fa paura perché potrebbe togliermi il focus dei miei obiettivi. Cioè, se io dovessi diventare tossico, perderei il senno. Di conseguenza perderei il mio focus nella mia vera passione, che è il cinema e la musica e tutto ciò che mi piace fare. Adesso ci entriamo. Quando uno dice ho smesso completamente di bere, normalmente è accaduto qualcosa per cui dal giorno dopo non l'ha più fatto. Hai passato un brutto momento? Ho passato un brutto momento nel 2018 quando mi sono separato da mia moglie e ho alzato il gomito praticamente tutte le sere per 3, 4, 5, 6 mesi. Ero praticamente perennemente ubriaco e poi è arrivata proprio la sera in cui ho veramente esagerato, ho rischiato il comatilico, ho detto ok, ora basta. Dal giorno dopo basta? Sì, da quando si era allontanata. Insomma, avevamo deciso in comune accordo di divorziare. Lei era ritornata in Libano con i bambini, con i miei figli e lì ha avuto uno scatto di, diciamo, di perdizione nel labirinto tortuoso dell'alcol. Perché la amavi ancora? No, però amavo i miei figli e non erano con me. Ok. Cioè di comune accordo avete preso la decisione che i tuoi figli sarebbero andati a vivere in un altro paese, nel suo paese, quindi lontanissimi da te. Lontanissimi da me. Io li vedevo ogni 7-8 mesi, cioè io ogni volta che li rivedevo Marcus o Brando erano cresciuti di due centimetri e non ero mai con loro, non ero, insomma. Sì, ho avuto un momento difficile con l'alcol. Ho rischiato veramente di cadere nel baratro dell'alcolismo e quindi dal... Io non tocco un bicchiere di vino dal 2018. Di vino. Neanche dici di... Però sì, non tocchi più niente. Zero. Non lavoravi in quel periodo in cui eri in full immersion, diciamo, di alcol e di perdizione? Non stavi lavorando? Non avevi bisogno... Sì, lavori chiavo, insomma. Quindi non avevi bisogno del 100% della lucidità, non avevi dei focus così... In realtà sì, avevo bisogno. Però quando uno passa un momento di depressione, perde di vista anche quali sono i suoi obiettivi, capito? La depressione, lo stress, sono una pappa, un milkshake di... di cortisolo, non vuole così, che ti porta lontano da quelli che sono veramente i tuoi obiettivi. Ognuno di noi, anche la persona più ricca, la persona più intelligente del mondo, passa dei momenti così perché siamo esseri umani. Certo, assolutamente. E quindi, diciamo, è stato un momento difficile per me, mi sono ripreso. Ecco, vedi, sono molto fortunato perché mi sono ripreso. Ci sono tanti invece che... Che con la scusa del problema continuano e vanno oltre e si perdono. Bravissimo. E quella però, sai, in realtà, secondo me, è anche un po' una moda, no? Cioè, il fatto che uno faccia l'artista o la rock star che deve bere, deve drogarsi, no? Questa cosa qua è una cosa che appartiene, secondo il mio modesto punto di vista, agli anni 70, quando era di moda questa cosa qui. Cioè, che oggi uno vuole fare l'artista, bere, fare un po' l'introverso, cioè, alla fine, sono tutti così. Cioè, Mick Jagger e che cazzo ne so, anche Tom Waits o, che ne so, Jim Morrison, erano quelli, eh? Basta, fine. Quindi oggi, il vero poemo di, il vero poeta maledetto è chi effettivamente non fa droghe, alcol, e che fa funzionare il cervello. È difficile far funzionare il cervello, eh? Non è una cosa così scontata. Però tu sei nato determinato, alla fine, hai visto, ci hai creduto sempre, ci sei arrivato e me l'hai detto prima, poi mi hai detto, sì, anche la mia famiglia, ma hai messo al primo posto la carriera, cioè, per te è così importante, che esistono delle parentesi, ma poi ti riprendi e vai avanti in quello che è, appunto, il tuo focus principale, questa è una cosa forte. Assolutamente. L'amore. Apriamo solo la parentesi perché hai parlato di bambini, hai parlato della tua ex moglie e di divorzio, quindi ti faccio una domanda. A che età vi conoscete? Allora, io conosco Ruba, la mia ex moglie, quando avevo 22 anni. la conosco a Milano, stavo lavorando lì, stavo lavorando in un'azienda che ristruttura, insomma, pavimenti, qualche. Ero giù in piazza Duomo e io vado giù, faccio una mia sigaretta, passa questa, una turista, libanese, sai le classiche turiste che a maggio sono turisti. Dico, madonna questa, ma chi è? Vado lì, la fermo, questa mi guarda, lo sozzo, che cazzo vuoi? Lei era tutta sciccosa, borsa di LV, occhiali di Prato, insomma, il Rolex, quindi dicevo, ma è questa qui. E poi è scoppiato un amore. No, no, ma come l'approcci, sono curioso, che cosa fai? Tu pensa che ai tempi, cioè lei non parlava italiano, io non parlavo inglese, ma te lo chiedo anche per questo. Tu immagina che, cioè sembravo, capito, che è cozzalone. l'approccio, gli dico, hi, proprio hi all'italiano, cioè, hi, tell me, what do you want? E niente, poi ho iniziato a parlare, senti, io finisco verso le nove, se vuoi ci andiamo a bere qualcosa, cazzo è venuta, è venuta. Siamo andati a bere una birra, e poi da cosa è nata cosa, ci siamo innamorati di tantissimo, io ho lasciato, ho dato le dimissioni al lavoro, sono partito, sono andato in Libano, cioè in Libano, non stavi ancora facendo l'attore? Assolutamente, io non stavo ancora facendo l'attore, e ho detto, senti, io mi sono innamorato di questa donna, lascio tutto e tutti, dopo una settimana, che la conoscevo, avevo cinque giorni, lei era una turista, doveva tornare in Libano, stava visitando Milano, e gli faccio, senti, io vengo con te, ma non avevo una lira, non avevo una lira, io vengo con te, sono innamorato di te, ti amo, sposiamoci, e poi vado, avevo le poste italiane, ho 15 euro sul conto, e ho detto, cazzo vado, come hai fatto? Come hai fatto? Vado perché, in realtà, lei anche si era presa bene, mi ha pagato il biglietto aereo, sono andato in Libano, mi sono messo a lavorare, mi ricordo, suo papà aveva una villetta, mi sono messo a lavorare lì, a farci dei lavoretti con le piante, così mi dava qualcosa, è scoccato un amore incredibile, poi alla fine siamo sposati, è arrivato Marcus, è arrivato Brando. Più o meno avete la stessa età? No, Ruby è più grande di me di tre anni. Tre anni, ok. Adesso siete in buona? Adesso siamo in buonissima, ci vogliamo un sacco di bene, ci rispettiamo molto, lei sta insieme a un uomo da, già tre anni, ah, c'è un grande rispetto, grande amore, grande, quello che è successo fondamentalmente, non abbiamo rispettato i tempi, cioè, sì, ci siamo messi insieme, sai quando scoppia l'amore, dici oddio, voglio subito un figlio, voglio subito sposarti, e però non succede mai, perché poi ti rendi conto, ecco io l'ho fatto, io mi sono innamorato, figlio, mi sono innamorato, sposare, ancora ti amo, secondo figlio. Quanti anni hanno di differenza i tuoi figli? Tre anni. I vostri figli? Tre anni. Ok. Andiamo sulla carriera, fai questa cosa a Pavia, però dopo un anno, lavori in un'azienda di ristrutturazione edile, quando sei in Duomo, quindi non sta proseguendo la carriera. Ok, quando succede? Parto, vado a Roma, mi trovo un lavoro, piazza Pantheon, facevo l'acchiappino. Cosa vuol dire? L'acchiappino? Ma come hai sentito parlare degli acchiappini? È quello che sta. Devi addescare le persone? Signori, qua abbiamo, vuole vedere il menù? Io facevo nove ore di lavoro in nero, in nero, perché voglio sottolinearlo in nero, per 40 euro al giorno. Però questo mi permetteva di pagarmi l'affitto, la mia stanzetta, vivevo con un ragazzo iraniano a Numidio Quadrato, questo studiava medicina, e studiava di notte, ci dividevamo la stanza, una stanza singola, diviso due, io pagavo 250 euro d'affitto, perché affitti a Roma sono incredibili, e poi andavo a lavorare, insomma, portavo a casa questi soldi, e facevo proprio, e trovai il mio primo agente. Ok. Quindi qui stiamo parlando, il mio primo agente, Dimmi il nome? Se hai voglia. No, preferirei rompare. non è finita bene. Non è finita, cioè non c'è stato interesse né da parte mia né da parte sua, insomma, non ho vissuto una bella esperienza, diciamo. A Roma? A Roma. O con lui? Sì, sì, con quel mio primo agente lì, non ho vissuto una bella esperienza, trovo questo agente, e faccio il mio primo casting. Il mio primo casting, nel 2012, quando mi sono trasferito a Roma, io lo prendo. Ok. Ero felicissimo, ho detto, cazzo, ora divento famosissimo. Io, nella mia ingenuità, sono stato preso per fare lo spot di una famosa birra. Ok. Chiamo mia mamma, chiamo le mie sorelle, ottio mamma. Quindi è un commercial, non... Un commercial, sì, sì, non un film, non una serie. Ok, ok. Insomma, fighissimo, chiamo mia sorella, diventerò famoso, mi hanno preso per questo. Cazzo, vado sul set. A parte che era una comparsa, quindi non mi si vedeva neanche, ma c'è l'aggravante del fatto che questa birra, in realtà, noi sì facevamo lo spot, tutto quanto, però poi venivamo trasformati in cartoni animati. Ok. Quindi non si vede assolutamente dove sono e cosa faccio. Però ti hanno pagato? Sì, certo. Eh vabbè, questo già era una prima soddisfazione. Mi ricordo ancora, 4200 euro, tipo qualcosa. Come primo lavoro, direi niente male, 250 euro d'affitto, direi tanta roba. Allora, 4200 euro nel 2012, per me, era come se avessi guadagnato 40.000 euro. Ero felicissimo. Quando ti arriva una somma così, non essendo abituato ad avere soldi, ma vivevi un po', come dire, eri sempre un po' tirato, li sputtagno o li metti da parte? Io personalmente me li accarezzo. Ok. Cioè non ne metto la, io me li accarezzo. Ok. Vabbè, quindi fai questo lavoro per la birra. Ti stavo chiedendo una cosa prima, quando hai detto a tua sorella, a tua mamma, ma non penso diventerò famoso, quando dicevi loro queste cose, dicevi che volevi far l'attore, ti prendevano sul serio e dicevi, ma va, ma non succederà mai. Sempre. Ok. Mia madre ha sempre creduto in questa cosa. Ok. Mia madre mi ha sempre creduto. Mi ha interrato forza questa cosa qui. Mia mamma, allora, non è che mi ha mai detto dai ce la farai. Mia madre è la classica e diceva, lo stai facendo? Sei contento? Sei felice? Vai, fallo. Non sei felice? Cambia. Cioè, non era una che diceva, easy, proprio easy. Mia madre era proprio una tranquillona. Quindi fai il lavoro della birra. C'è il lavoro della birra. Diventi un, come dire, un cartone animato, quindi nessuno conosce il tuo volto. Io ero convintissimo che tutti mi vedessero, invece era un cartone animato che nessuno mi vedeva. E poi che succede? E poi che succede? Che, a un certo punto, vabbè, faccio questo spot, rimango a Viora Roma, continuo a fare i miei lavori da cameriere, faccio un secondo casting e vengo preso. Due su due. Due su due. Faccio un secondo casting e vengo preso per questa serie. Allora, io ero convinto di essere stato preso per fare un ruolo, però in realtà era una comparsa speciale. Cioè, io ero sempre lì, ma non parlavo. Ok. Però ero lì. e lì è stato un colpaccio perché ho girato per un mese e mezzo questa serie di Canale 5 che si chiamava Come un Delfino. Ok. Due. E mi pagavano 83 euro al giorno perché le comparse vengono pagate così. Ed ero felicissimo. Però lì è successa una cosa che mi ha fatto talmente tanto incazzare. Ok. e ad oggi ci penso ancora. Lì mi sono sentito per la prima volta allora, non voglio usare il termine bullizzato perché... Ti sei sentito usato? Non usato, però mi sono sentito preso un po' in giro, ecco. Perché io ero stato preso per questa serie e mi ricordo che ero sempre lì. C'era Raul, c'erano i ragazzi protagonisti che avevano la mia età. Alcuni erano anche più grandi. Diciamo che di protagonisti ce ne erano 5, 6, 7, diciamo. Perché era una serie corale di questi ragazzi che venivano presi dalla strada salvati da l'eroe della serie che poi era Raul Bova e li portava a nuotare e quindi salvava questi criminalotti. Io nonostante avessi avuto una parte secondaria che stavo lì facevo parte di questi qua ma non parlavo mai per fare numero della squadra diciamo ero sempre incuriosito da quello che diceva il regista agli attori principali e volevo capire come si usavano le telecamere gli obiettivi le cose quindi ero sempre lì con loro. Mi ricordo non farò nomi che c'era questo attore italiano presente ero lì sempre quando il regista dava direttive agli attori gli attori erano tutti lì quelli principali io ero lì a ascoltare e questo tizio mi ricordo si gira mi fa ma tu sei hai un contratto d'attore principale e io gli facevo no io sono solo qua a ascoltare quello che dice perché non vale di imparare e lui dice allora levati dal cazzo perché tu qui non ci devi stare sei una comparsa wow è stata una cosa è stata una cosa umiliante così umiliante ma così umiliante ti giuro che io se dovessi rivedere quel ragazzino lì il io di quegli anni cazzo gli direi ma perché fai perché dici questa cosa a un ragazzo sono lì per imparare traumatizzi esatto un ragazzo che invece vuole assorbire come una spugna e non ti sta dando fastidio nonostante ci volesse ben alto per traumatizzarmi ai tempi ci rimasi molto male e quella cosa là però te la sei legata al dito minchia quella roba lì ho detto ah sì davvero io mi levo un giorno vedremo dove sarei io e dove sarete voi quella cosa lì me la sono portata indietro però ti ha dato stimolo positivo sì sì positivissimo esatto io ringrazio quell'attore per avermi detto quelle parole brutte lo ringrazio tutt'oggi perché io oggi mi ricordo ancora di quel momento cioè di quello che ho sentito dentro e quella cosa lì mi ha dato una carica una carica incredibile che ai tempi non l'avevo capita perché ai tempi era guarda te sto stronzo cioè ma perché ma perché e invece oggi lo ringrazio tantissimo perché mi ha dato quella roba è ancora in più la cazzimma la cazzimma finisci l'esperienza con questa produzione e poi che fai? continuo a fare provini continuo a fare provini nel frattempo cresco divento grande e continuo a fare provini ma le cose non andavano mai cioè non andavano mai 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 ma anche perché nei due casting che hai preso hai fatto due ruoli muti tra virgolette quindi vuol dire che scricchiorava la tua recitazione cioè nessuno ti spiegava cosa non andava per migliorare o tu te ne accorgevi? allora la recitazione io ero assolutamente immaturo a livello recitativo ovvio non avevi esperienza scricchiolava non scricchiolava io non lo so però non mi è mai mancata quella cazzima di dire devo andare avanti cioè non mi interessa niente cioè io la mia fortuna la cosa che dico sempre di me è che se un ragazzo dovesse venire da me e dirmi ma qual è il segreto per arrivare a Hollywood a fare un film io rispondo sempre questo e non è facile da capire io personalmente non ho mai avuto un piano B cioè per me o andava o andava oppure andava cioè io non ho mai avuto piani B chiarissimo non era vabbè dai se non ce la faccio poi vaffanculo mi troverò un lavoro in teatro farò qualcosa oppure vabbè io ci provo tre anni quattro anni se poi non va non va mi trovo un lavoro non esisteva quella roba lì cioè per me non esisteva al mondo che io non arrivassi a Hollywood a girare un film non mi passava neanche nell'anticamera del cervello il piano B questa si chiama passione quello che io cerco di spiegare ai miei figli tante volte è a me non interessa quello che tu vuoi fare purché sia quello che davvero vuoi fare sì sì ti deve ossessionare quella cosa io sono ossessionato dalla mia vita io sono un edonista io sono un tossico della mia vita sono tossico della mia passione la droga vera che io uso è la mia passione ma non te lo dico perché stiamo facendo un podcast lo sento io non potrei mai non fare il mio mestiere io preferisco morire piuttosto che fare altro e questo è il là in più nel frattempo cambio agente vado a fare nuovi casting anche di progetti anche abbastanza importanti ok vengo preso per altre serie televisive lì comincio a diventare parlante una posa due posa le pose sono dei piccoli ruoli una posa vuol dire una scena un giorno lavorativo due pose sono due giorni lavorativi tre pose e così via e vado avanti per la mia carriera fino a quando le cose con mia moglie iniziano a traballare ad andare male però aspetta perché tu lì hai 21 anni quando sei a Roma e ti prendono 21-22 però tu la conosci l'anno dopo a Milano che fai un lavoro manuale e non stai più facendo l'attore esatto stavamo insieme a distanza lei era in Libano io ero in Italia io continuavo a fare le mie cose lei continuava ok quindi avevi lasciato aperto quello spiraglio per chiamarti farti fare dei casting nel frattempo vivevi in Libano aiutavi il padre facendo no poi sono tornato cioè io sono stato lì tipo un mesetto poi sono tornato in Italia perché dovevo continuare con le mie cose ok io avevo capito che ti eri trasferito per un po' no 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 mi ero trasferito per un mesetto poi ero tornato quindi quando facevate i vostri bambini erano nei momenti in cui vi ritrovavate però non eravate il primo bambino Marcus è arrivato nel 2014 quando io avevo 24 anni ok e lì ci eravamo già sposati ed eravamo insieme abitavate nella stessa città sì sì no nella stessa casa dove? siamo sposati a Meleniano ok quindi poi lei viene e si trasferisce lei viene e si trasferisce io prima ancora abitavo a Roma da solo con il mio cane poi lei si trasferisce e andiamo a vivere insieme e ci sposiamo vi sposate in Italia? ci sposiamo in Italia ci sposiamo perché lei rimane incinta inizia la mia vita da papà da marito e da sognatore il lavoro ancora? il lavoro no allora nel 2017 mi arriva il primo ruolo vero diciamo quindi tre anni dopo la nascita anzi avevi due figli quasi tre anni dopo la nascita del mio primo figlio nel 2016 mi arriva l'opportunità Davide Marengo che è un regista napoletano mi dà il mio primo ruolo per una serie che si chiama Sirene dove interpretavo un tritone un metà uomo metà pesce diciamo una serie fantasy per la Rai inizio le riprese di questa serie ed è sono il protagonista siamo protagonisti io e Luca Argentero è il tuo primo grande ruolo è il mio primo grande ruolo sì di fronte a una camera certo facciamo questa serie Marcus è nato nel 2014 nel 2016 aveva due anni la serie esce nel 2017 non riscontra un grande successo perché insomma gli ascolti non erano granché c'era il sentore che potesse esserci una seconda stagione ma non l'hanno fatto perché l'investimento era superiore rispetto alle aspettative degli ascolti ed è lì che io inizio ad avere dei problemi con mia moglie nel frattempo nel 2018 io vengo preso per un altro bellissimo film che ho girato a Rio de Janeiro dove siamo protagonisti io e Giancarlo Giannini che si chiama Duetto ed è stato il mio secondo grande ruolo parto con Giancarlo arriviamo a Rio de Janeiro stiamo insieme sul set per un mese un mese e mezzo Giancarlo è una persona incredibile cioè ho fatto più scuola con lui un mese su set che cosa succede siamo nel 2018 il 6 novembre del 2018 io e mia moglie ci lasciamo lei parte torna in Libano c'è un motivo per cui avviene questa rottura cioè tu sei nervoso perché nel tuo lavoro avevi magari poche certezze quindi impatta nella vostra vita allora io adesso dirò una cosa che non ho mai detto ok io ho sempre avuto come il sentore che la vita da padre e la vita da marito poche anzi dicevo quando hai una passione vera sei disposto a tutto e non hai un piano B questa cosa qua non è solo wow ma è anche a volte può succedere qualcosa di spiacevole e sei costretto perché la tua passione è come se fosse un'entità che vive dentro di te che ti dice questa cosa no ti piace? no fa niente li vuoi bene? no fa niente la vita da padre da padre e da marito e mi stavano portando via la tua grande passione la mia grande passione e io o facevo una cosa o facevo l'altra perché poi è così perché non essendo stato io un ragazzo benestante ai tempi che potevo dire ok mi tengo la mia famiglia intanto insomma continuo a seguire il mio sogno io non potevo permettermi di fare questa cosa intanto ti fa grande onore ammetterlo essere così sincero perché secondo me è una cosa in cui si ritrovano in tantissime persone ma non lo ammettono neanche loro stessi e fanno dei danni giganteschi giganteschi ma sai io preferivo pensare che i miei figli potessero vivere con due genitori felici e separati che incazzati sotto lo stesso tetto certo capisco e non è una sviolinata ma è veramente così io prendo la decisione di lasciare mia moglie e gli dico ora basta non ho più intenzione di portare avanti questa cosa consapevole del fatto che lei sarebbe tornata al Libano e consapevole del fatto dei tumulti ai quali io sarei andato incontro proprio perché i miei figli non erano più con me perché un conto è dimenticarsi di una donna è un conto è dimenticarsi del sangue del tuo sangue dei tuoi figli e lì non puoi fare niente io poi non sono neanche uno di quei padri o di quegli uomini che fanno i figli poi ciao arrivederci grazie io ho fatto dei figli ho dei valori quindi ci tengo ci lasciamo questo trambusto di merda che mi è successo è spuntato un fiore nell'etame ed è che io in questo momento di assoluta depressione ero dimagrito ero un uomo perso a imbaria dell'alcol vengo preso per un film ok dove sono protagonista con voglio ricordarlo mio padre era interpretato da Ivano Marescotti che è venuto a mancare qualche mese fa vengo preso per questo film dove incredibilmente parlando paradossalmente parlando mi viene chiesto di interpretare la parte di un tossico fuori controllo dimagrito in balia della depressione la tua vita la mia vita era perfetto era perfetto come si chiama il film? Bar Giuseppe ed è stato poi premiato anche il film festival del cinema di Roma io faccio questo film sono irriconoscibile cioè sono irriconoscibile perché io oltre ai chili che avevo perso ne voglio perdere ancora di più quindi io per un mese per prepararmi per il film mi metto a verdure bollite io voglio perdere i chili dimagrisco di 9 chili che su 1,90 sono tanti io pesavo 84 chili ora ne vado 96 cosa succede? finisco il film boh torno depressione antidepressivi a cannone prendevo per mesi e nella mia merda un giorno squilla il telefono era la mia agente a Roma che mi diceva con questo accento mezzo napoletano mezzo romano senti ci sta qua senti ci sta qua un progetto che hanno mandato dalla Bologna ma ti interessano di cosa si tratta ma non lo so questo è un film polaco lei è Rosaria Ciccolani? è lei infatti perché dall'imitazione io la conosco è lei è lei ok che poi le voglio ancora bene in realtà abbiamo avuto un sacco di litigi cose ma queste sono altre cazzate le voglio ancora bene ci sta questo progetto qua lo vuoi fare viene dalla Bologna ma non lo so che è mi faccio ma che cos'è? e io guarda l'unica cosa che so è che per Netflix minchia per Netflix ti illumini io mi illumino io annuso l'odore del fiore dico senti Rosa facciamoci una chiacchiera chi sono questi chi non sono questi vabbè facciamo così dai se ti faccio chiamare dal regista chiamare il regista chiamare il regista e dice buongiorno in inglese hi I'm Thomas Mandes I'm the producer and the director of the movie and stuff and I was like ok benissimo di cosa si tratta? guarda un film che si chiama 365 giorni è un thriller mi dice così un thriller ah che figo è un thriller è meraviglioso grande e stiamo cercando proprio te gli faccio sì ma io mandami una cosa che voglio fare un casting una cosa no non vuoi vedere come recito no vogliamo te mi sembrava un po' tipo come avere a che fare un po' come Vanna Marchi questa mi chiama mi dice ma vogliamo te per un film da protagonista che esce su Netflix World Wild 192 paesi da protagonista senza fare un provino con un cachet della Madonna senza fare un provino non mi è mai successo in Italia è impossibile cioè ma dove ti trova questo regista cioè come fa a sapere della tua esistenza praticamente Netflix non riesce a trovare fanno casting e casting perché stanno cercando questo Don Massimo Torricelli da mesi il problema è che non lo trovano vogliono un italiano moro alto che abbia un aspetto un po' così e non lo trovano un po' maccio un dannato elegante esatto vogliono trovare questo tizio non lo trovano fanno casting un sacco di attori italiani anche importanti rinomati che chiunque conosce non li prendono cosa succede è che trovano una mia vecchia foto su un Facebook vecchia e si chiedono chi è questo ragazzo cominciano a cercarmi e risalgono a me sto con questa agenzia mi contatta io che sto alle prese che ho i cazzi miei non la vedo cosa voglio più recitare non mi interessa cazzo voglio solo i miei figli voglio rivedere che succede no? stavo all'astrico non c'avevo più un euro nel portafoglio neanche a piangere mi faccio una chiacchiera questi mi dicono dai senti ti facciamo il biglietto vieni a Varsavia alla sede di Netflix facciamoci almeno una chiacchiera no? io arrivo lì era uno studio esattamente come questo e mi ricordo che c'era una telecamera come quella arriva ciao sono Thomas Mandes senti non ti vogliamo fare il casting però è quello che ci serve che cominci a limonarti con questa cioè volevano vedere come io baciassi mi entra questa perfetta sconosciuta bionda io la guardo ciao piacere Michele cominciamo a limonare alla grande con una perfetta sconosciuta cioè mi sono sentito come tipo le serate che facevo a Rimini quando avevo 16 anni che facevamo a gara chi si limonava più ragazze quando eravamo piccolini la cosa è stata assurda perché io bacio questa ragazza bellissimo perfetto 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 mi danno un contratto Netflix original tutto c'è qualcosa c'è qualcosa che non va cazzo non può essere così semplice quindi vede la tua faccia dice è il dannato che cercavo io ti fa limonare funziona ti fanno il contratto e poi? e poi giro il film e poi è una figata pazzesca allora penso che questo film tutto l'universo femminile che io almeno quello che conosco io abbia visto il film non so se ha visto tutti e tre ma il primo sicuramente sì la domanda che mi fanno sempre è ma sono vere le scene di sesso che tu giravi? classica domanda allora rispondi per tutti no no non sono vere ah no? eh no ragazzi no perché quella diventa pornografia e non è legale ok non è legale però io dico sempre se cazzo sembrava vero vuol dire ho fatto un buon lavoro che hai fatto un buon lavoro questo sicuramente tu quando è che giri il primo? da quel giorno di quel provino dove vai a Varsavia quanto tempo passa fino allo shoot? due mesi ah ok subito subito dove girate? giriamo a Varsavia giriamo a Lecce e basta giriamo a Varsavia a Lecce il primo stiamo parlando del primo stiamo parlando del 2019 esce nel 2020 e che succede? tu cominci a diventare popolare dal 2020 giusto? popolare vuol dire una risonanza super importante a me succede questo allora io giro il film finisco le riprese continuo la mia vita normale il film viene messo su Netflix ok tu immagina worldwide global si global Netflix decide di mettere il prodotto sulla piattaforma se non vado errato il 7 di luglio dell'anno successivo ok ok io mi sveglio la mattina quando Netflix decide di mettere il film sulla piattaforma io mi sveglio e apro Instagram e non mi vai Instagram prima di quel giorno quanti follower avevi su Instagram? poi io detesto parlare di numeri in quella maniera ma è solo per far capire le proporzioni soprattutto quando hai una risonanza mondiale io penso 6-7 mila 6-7 mila follower oggi ne hai? sì oggi ne ho 16 milioni ok ritorniamo a quella mattina? ritorniamo a quella mattina io mi sveglio Instagram non funziona quindi io cosa faccio? faccio un delete dell'app e poi la reinstalo e praticamente mi sono svegliato ho 2.3 milioni di follower nella prima notte il film è stato primo in classifica per 4 mesi in tutto il mondo e tutti avevano visto il mio film e io sono uscito per andare a bere il caffè come ogni giorno vedevo che la gente mi inseguiva a Milano? in Italia? no ero a Roma ok in Italia comunque sì mi inseguiva è successo un qualcosa da quel giorno principalmente donne principalmente sì ragazze ma anche ragazzi devo dire anche ragazzi i ragazzi giovani però ragazzi giovani no ma anche ragazzi della mia età ok va bene giovani giovani 32 anni no pensavo intendersi tipo 15 anni no 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 sì 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 perché ai tempi io quando sono uscito col film ne avevo 29 30 oggi ne ho 32 e da quel giorno la mia vita non è più stata la stessa cosa è cambiato? tutto tutto cioè tutto quello che puoi pensare è cambiato è cambiato è cambiato è cambiato tantissime cose quali sono le due tre cose più belle che ti sono successe? beh immagino che una di queste è il fatto di essere un attore riconosciuto da tutti quindi quel merito che non sentivi qui o rispetto alle esperienze passate immagino che un altro fosse anche la pecugna perché non hai più problemi di soldi assolutamente no ecco questa adesso senza troppi moralismi questa è la cosa che più è una delle cose più importanti che mi è successa diciamo nella mia vita ecco la parte economica è indubbiamente una delle cose più importanti che mi è successa cioè se prima dovevo fare i salti mortali i triplo carpiati per pagare l'affitto di 250 euro oggi ho una casa di mia proprietà certo ho una macchina non vado più in giro con una metro il che non c'è assolutamente nulla di male andare in giro con la metro però posso muovermi oppure posso vivi in Italia ancora? vivo sì fra Milano e Los Angeles però quando non giri stai in Italia? assolutamente sì qual è casa tua? l'Italia ok e anche poi diciamo anche la libertà di vedere i miei figli quando voglio che è molto importante la libertà di far loro dei regali che si meritano se vanno bene a scuola insomma la libertà il tempo cioè quello che io più ringrazio il mio vero blessing di questa cosa è il tempo cioè io ho a disposizione molto tempo da dedicare a me stesso e alle mie passioni cioè oggi non devo più lavorare per guadagnarmi da vedere per poi arrivare al mio obiettivo oggi dedico le mie 24 ore giornaliere ai miei obiettivi dal 365 numero 1 primo film poi c'è stato un sequel quindi c'è stato un sequel che c'è stata la seconda stagione 365 sono quattro romanzi ok i film sono basati sui romanzi di questa autrice che si chiama Blanca Lipinska adesso tu lavori sempre nel senso a livello cinema sì ci metto dentro lungometraggio serie cioè per me è un unicum sì lavori sempre sì assolutamente cioè sì grazie a Dio oggi io poi ho girato la seconda parte di 365 la terza parte ora hanno incominciato ad intavolare un'ipotetica idea di fare una quarta nel frattempo sono stato contattato da Hollywood e mi hanno offerto il mio primo ruolo da protagonista con Millennium Production dove siamo protagonisti io e Megan Fox di questo thriller psicologico molto figo che uscirà adesso dicembre prima al cinema e poi sulla piattaforma ok non si sa ancora bene quale e poi inizierò a girare un altro film sempre negli Stati Uniti a Hollywood che si chiama The Follower lo girerò ottobre penso reciti in inglese senza nessun problema? sì come se fosse la mia lingua madre ok hai fatto poi lezioni in inglese cioè come l'hai perfezionato a un certo punto per riuscire a leggere un copione a capire interpretare e a parlarne in maniera fluida io vedi ho semplicemente continuato a parlare in inglese sono stato molto negli Stati Uniti non ho fatto corsi è semplicemente una cosa che ho inglobato avendo a che fare anche con i miei genti i miei avvocati che sono americani quindi è una cosa che sai è la classica cosa che uno dice no devi stare sul posto per imparare una lingua invece tu hai continuato a praticarlo è vero è vero questa cosa qua devi stare su un posto io ho continuato a praticarlo sul posto perché non hai vie di fuga cioè devi parlarla per forza la lingua cioè io oggi paradossalmente parlando avrei il modo per pagarmi una lezione di recitazione o di inglese ma non lo faccio non senti che ti serve non mi serve perché io continuo a stare sul set e poi io sono così affezionato al mio metodo di recitazione che è quello che avevo prima che non mi serve andare da qualcuno che mi dica cosa devo fare ok si chiama ego sì e beh ce ne vuole un po' altrimenti saremmo degli insicuri senza ego assolutamente assolutamente parliamo di musica perché io non ti ho conosciuto ma indirettamente ci siamo connessi grazie alla musica ho sentito un pezzo tuo che fondamentalmente ha avuto molto successo che è una colonna sonora del film di 365 però ce l'hai ce l'hai proprio nel senso che non è che sei improvvisato ce l'hai proprio e vedo che ti appassiona parecchio la musica sì la musica è la seconda mia vera passione cioè io ho imparato a suonare la chitarra su youtube ai tempi furono perché avevo voglia di suonare la chitarra classica la chitarra acustica 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 e ho imparato suonare la chitarra e ho sempre scritto delle piccole canzoncine così per i cazzi miei però quello che mi è successo è un'altra cosa assurda che durante il set di 365 quello che è successo è che una sera mi trovavo a bere qualcosa con il regista dopo una giornata di riprese di 365 e lui mi dice ma what do you like to do you know beside acting or stuff vuol dire cosa ti piace fare oltre alla recitazione ora io scrivo canzoncine dai fammi sentire qualcosa e questo gli faccio sentire una canzone che avevo scritto e la fa diventare la colonna sonora di 365 quindi esplodo col film le musiche cioè oltre a essere il protagonista del film ho fatto le colonne sonore di conseguenza esce il film e mi arrivano un sacco di richieste da label come Sony Warner Bros o Universal firmo con Universal il primo disco che faccio ma senza essere musicista né un cantante semplicemente per pura passione e vinco due dischi di platino e adesso sto concludendo il secondo che uscirà adesso a breve in brevissimo e anche la musica poi è diventato oltre a essere una passione una vera e propria fonte di danaro ok stai già monetizzando sì assolutamente certo non come il cinema devo dire perché comunque il cinema rimane sempre il mio focus cioè se dovessi invertire la parte musicale con quella cinematografica probabilmente anche la musica diventerebbe molto molto a livello monetario molto più importante di quella che è già adesso parliamo di un altro argomento arrivano i branding in tutte le altre cose chiaro tutto quello che succede a chiunque abbia celebrità poi tu essendo anche un bello riesci ad avere dei brand fashion un po' più alti fighi ed è molto chiaro parliamo di sesso parliamo di sesso te ne parlo perché perché non parlo mai di sesso invece a me chi ti conosce mi ha detto parlagliene perché ha un modo di parlarne molto aperto e molto figo ma io ti voglio fare una premessa io credo che pochi sappiano fare sesso nella vita vale per l'uomo e vale per la donna molte persone si amano hanno delle belle relazioni ma l'attività sessuale è abbastanza scarsa non di intensità di qualità ok e io ho l'impressione guardandoti non ho mai visto 365 e poi se mi dici che le scene non sono vere quindi te lo chiedo però dagli occhi che hai da quando mi hai detto che si è innamorato la tua ex innamorata di te subito credo che tu sia particolarmente dotato non come misure ma come modalità ti vorrei chiedere innanzitutto cos'è il sesso per te cioè come vivi il sesso che cos'è il sesso allora tu tieni conto che io sono un ragazzo di bell'aspetto nel pieno del mio testosterone ho 32 anni chiaro e quindi la risposta è ovvia il sesso è importantissimo nella mia vita è importantissimo nella mia vita perché mi piace farlo lo faccio me lo godo diciamo così certo dalla A alla Z lo faccio per piacere lo faccio in ogni momento della giornata quando c'è voglia e lo faccio anche per sfogare diciamo i miei le mie tensioni perché no è un rapporto bellissimo che ho col sesso io ed è la prima volta che parlo di sesso dopo 3-6-5 nota bene davanti a una camera davanti a un'intervista diciamo perché di poi di solito si parla con gli amici in modo diciamo così da bar o da oratorio però se vogliamo parlarle bene le parliamo bene cioè è importante il sesso ma c'è una donna che ti ha insegnato nel senso spesso io quando ero ragazzino mi piacciono queste domande mi piacevano molto le donne più grandi più grandi vuol dire vent'anni in più non tre anni le classiche MILF diciamo sì che per me in quel momento era come dire una grande meta erotica 18 anni avere una 38enne ma perché sapeva fare cento volte io sono una delle pochissime persone ad aver esaudito il più comune sogno erotico di tutti i ragazzi ho avuto una non dirò il tuo nome stai tranquilla ho avuto una storia d'amore con la mia prof che ne aveva 44 ok abbiamo avuto una storia d'amore molto intensa di sesso anche di sesso però devo dire che non è stata lei insegnarmi il sesso vero lì non era il sesso lì era l'amore immischiata con il sesso se noi parliamo di sesso senza amore è un'altra cosa quando tu ami godi a prescindere io sono molto fan dell'amore cioè nel senso fare l'amore fare l'amore però poi esiste anche il sesso nel senso che non c'è quel sentimento lì io credo che noi dobbiamo distinguere bene le due cose perché cosa preferisci fare l'amore o fare sesso questa è una bella domanda sai puoi fare l'amore anche senza amare è una modalità semplicemente più profonda e più romantica io non credo ok il mio punto di vista è che o fai sesso oppure fai l'amore il che quando fai l'amore non è detto che tu non faccia sesso certo perché quando tu raggiungi una una profondità di coppia tale da introdurre il sesso quello grezzo in una bolla d'amore è lì raggiungi il picco della goduria assolutamente sì ma quindi chi te l'ha insegnato me l'ha insegnato una donna con la quale io ho avuto un rapporto molto c'è sotto quell'aspetto lì quasi di dipendenza sotto quel punto di vista sì era una vera e propria amante droga amante nel senso non a tua amante amante del sesso assolutamente sì più grande di te più grande di me però devo dire anche un'altra cosa che prima ancora di questa situazione sai quando dici cazzo quella roba lì ancora me la ricordo ecco io quando diciamo nei tempi in cui abitavo Roma da solo che lavoravo come c'era questa donna che era molto più grande di me aveva 45 46 anni ecco perché poi per andare siamo concordi con questa cosa ci sto leggendo nei meanti del cervello c'era una donna che lei cioè lei minchia io ero uno squattrinato ai tempi questa mi portò in un agriturismo in Toscana con la piscina privata ci siamo chiusi tre giorni non stop cioè e questa qui io la guardavo io basta che li guardavo la punta del cappello che mi usciva dall'orbita oculare e mi non riuscivo era come un tossico che ha bisogno della donna c'era una chimica pazzesca però vedi ecco vedi il sesso vero proprio io l'ho scoperto in età anche avanzata devo dire tipo tipo il sesso con l'amore ecco quando mi sono innamorato della prima volta della mia ragazza avevo 19 anni quindi lì era provo a fare l'amore con il sesso ed era diciamo bellissimo ecco sai io distingo bene le mie esperienze fra il sesso grezzo cartavetrato passami il termine ok ti seguo e il sesso su un petalo di rosa il che è bello tutte e due sono belli ma sono delle sensazioni così diverse a volte mi è capitato di fare sesso cartavetrato che mi appagasse molto di più dell'amore o a volte mi è capitato di fare l'amore ed essere appagato di più di una semplice sveltina con una sconosciuta in un bagno di un treno capisci probabilmente ci censureranno questo podcast quindi faccio un disclaimer ok che parliamo di argomenti over 18 quindi chiunque sia turbato chiunque senta che l'argomento è scabroso del sesso forse ma io non credo che stiamo non stiamo parlando di nulla parliamo di una cosa che è importantissima per tutti ma almeno nel nostro paese perché è quello che vivo non è solo un tabù sì è molto di più e quindi invece secondo me dovrebbe esserci una scuola di sesso io credo che renda più felici fare un sesso di qualità fare spesso l'amore cioè è un ingrediente fondamentale per tutti gli esseri umani quindi per me non è un argomento di censura però andando su youtube andando su determinate piattaforme forse sì quindi faccio un disclaimer dicendo da questo momento in poi forse pensateci su se volete continuare con l'ascolto con la visione del video però io sai che cosa ho in mente ho in mente un altro format che vorrei fare poi non so se lo farò però mi piacerebbe da tanto saranno vent'anni che ce l'ho in mente quello che stiamo facendo io e te con la persona ovviamente che non mette un volto per una questione di rispetto della sua privacy lo vorrei chiamare segreti anonimi ma non potrò andare su youtube quindi andrò non lo so su youporn o su è per forza obbligatoriamente perché voglio parlare esplicitamente e domandare a ogni singola persona di raccontarmi nel dettaglio il momento più alto la sua esperienza sessuale più incredibile può essere successa anche vent'anni prima quindi magari quella persona ha una famiglia dei figli si fa problemi a raccontarmela quindi stavo tastando un po' il terreno con te senti io ho un'esperienza da raccontarti volentieri che va fuori da ogni schema logico allora io penso di aver raggiunto l'apice di un orgasmo ok una notte con una persona dove c'era del sesso incredibile ruvido ma la particolarità non è questa la particolarità di questa cosa è che io credo tutt'oggi di essere stato drogato quella sera ok io stavo con una ragazza che era un po' fuori da dalle righe diciamo così questa tizia qua io avevo scoperto tramite la mia guardia del corpo che l'aveva seguita un giorno perché io volevo capire che cazzo andava a fare sempre quel giorno a quell'ora in quello stesso preciso posto lei andava a da questo tizio che si dicesse facesse le pozioni d'amore io per un certo periodo della mia vita a un certo punto ho cominciato a trovare nelle pietanze nelle mie pietanze che mangiavo dei fiori secchi e non capivo mai perché e non capivo neanche del perché io non ero più cosciente di prendere decisioni importanti senza l'aiuto di questa persona ora io sono una persona che non crede a queste cose ma crede nella scienza credo in questa love spell perché in realtà non era una passione d'amore ma era semplice droga cioè questi fiori qua erano imbevuti di una sostanza a mio avviso che poteva diciamo così bloccare i tuoi freni inibitori anche durante il sesso ok e a mia insaputa io ho preso ho mangiato questo fiore quella sera prima di andare a letto con questa che però fratello se l'avessi saputo se l'avessi saputo prima probabilmente questo love spell a mia insaputa è stato veramente veramente magico incredibile quello che ho provato quella sera era un bombardamento di godurie mentali e fisiche che un uomo normale non potrebbe mai provare se non per mezzo e per colpa di questo love spell ok preso a mia insaputa peraltro perché questa tizia era talmente innamorata di me e ossessionata da me che voleva fare di tutto per tenermi diciamo così legata a lei al suo quanto è durato il rapporto? non quella notte con lei per quanto tempo l'hai frequentata? un anno e mezzo ah wow un anno e mezzo di petali nel cibo no? probabilmente sì wow perché non c'è mai stata una volta che siamo finiti a letto che non ero cioè io ero mentalmente allora l'amore è una cosa che irrazionale o quant'altro ma dato che qui non stiamo cantando una canzone di Lucio Dalla ma stiamo parlando della verità non è possibile quello che io ho vissuto con questa persona non poteva essere semplicemente il frutto di un innamoramento perché c'era l'innamoramento anche perché il suo viso non era proprio il mio tipo ok diciamo ma c'era della sottile volgarità in lei che mi attirava molto di conseguenza anzi più che sottile devo dire palese palese americana americana italiana ok vabbè non facciamo un enigma sui paesi nel modo che era solo per capire no 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 certo assolutamente ma quello che io ho provato con lei era durante lascia stare l'aspetto sentimentale durante il sesso perché qui che noi ci vogliamo soffermare era qualcosa che non poteva essere umano cioè io non ho mai provato una cosa del genere prima e l'hai provata per un anno e mezzo e l'ho provata per un anno e mezzo ed è stato molto difficile di staccarmi da questa persona volevo arrivare lì ma non solo da quella persona ma anche da quel ingrediente in più nel senso quando nei tuoi rapporti successivi hai provato a riportare la stessa cosa o sei riuscito a staccarti perché poi dopo ne diventi dipendente non tanto perché dire dipendente della droga è banale ma è molto vero ma dipendente da quella sensazione lì io nei rapporti allora nei rapporti successivi ho provato a riportare questa cosa parlandone con la partner o no? no ho riprovato su di te ho riprovato a ricreare quella roba lì che non ho mai ritrovato non ho mai più ritrovato che la chimica funzionava con lei non in generale ma sai non era solo quella chimica cioè io cazzo mangiavo dei fiori che adesso la gente dirà spigliava i funghi no cioè io a mia insaputa ero stato tratto in trappola da una pozione d'amore che non è la pozione d'amore che ti innamori alla Harry Potter non è quello cioè la pozione d'amore si esiste ma non è la magia stiamo parlando di fiori che sono stati imbevuti in determinate droghe che ti rendono dipendente esiste cioè esiste la droga dello stupro ragazzi in Colombia che te lo mettono al bicchiere tu non te ne accorgi e purtroppo esiste dappertutto anche in Italia purtroppo cazzo esiste e io ne sono stato vittima e ti dico che per me liberarmi da quella situazione non è stato facile è stato veramente difficile difficile perché poi siamo arrivati a un punto dove non esisteva nulla non esisteva dialogo esistevano solamente litigi brutti parole e sesso litigio e sesso litigio e sesso litigio e sesso per una rabbia infondata perché io non riesco a capire che cazzo mi tiene legato a te però io sono drogato del tuo sesso e le relazioni successive almeno quelle più vicine le paragonavi a quella sì quindi quella diventa un po' una malattia mentale dopo è tutto paragonato cioè è stato tutto paragonato a lei io ero molto consapevole del fatto che la mia mente pensasse che lei fosse una totale idiota il tossico dipendente di coca odia la coca ma non può farne a meno è un po' questa la situazione la odia la odia una volta che si fa la botta la odia dopo 5 minuti ne ha bisogno però è la stessa cosa ho cercato di riportare questa cosa a livello sessuale nelle mie relazioni poi successive che poi chiaramente non puoi fare cioè sarebbe come mettere una XL di presti a me cioè cosa faccio la uso come coperta la notte quando dorme capito non funziona perché ognuno di noi è fatto a proprio modo fino a quando però una bella sera del 10-11-2022 conosco la donna della mia vita e ti dico che lei è stata l'unica a sua insaputa a esorcizzarmi da questo incantesimo lei ha sorriso e basta non vorrei cadere nella 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 pesantezza del romanticismo però effettivamente io stavo cercando lei e non lo sapevo è una ragazza di 20 anni di Zurigo una sera a cena ero con il mio team in piazza Lorenzo in Leucina Roma una piazza bellissima romanticissima ci fermiamo lì perché avevamo fatto delle cose di lavoro la sera era un po' stancho io ho detto ragazzi fermiamoci qua a mangiare qualcosa poi torniamo io mi siedo avevo Raffaele di fianco c'evo un bambino che era il figlio di Raffaele di fianco giocavo con lui poi c'evo il mio bodyguard c'evo il mio autista e c'evo un'altra persona no e basta eravamo solo noi il bambino stavo giocando col bambino nel frattempo ero al telefono con il mio avvocato che era un po' abbastanza incazzato però una roba che è successa mi giro la mia faccia è stata sai ti sei ingessato mi sono ingessato e? che approccia hai avuto? la piazza ci sono i tavoli la gente mangia di fianco a noi c'era questo tavolo di fianco a me c'era una ragazza bionda e di fronte a lei quindi praticamente di fronte a me c'era questa ragazza amore beh vabbè è stata e come l'hai approcciata sei andato tu o l'hai fatto uno sguardo è venuta a lei? no 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 assolutamente ti racconto è stato io la prima cosa che ho fatto è stato Raffae girati guarda quella lì di fianco a te lui si gira Raffaele mi guarda che è Raffaele mio carissimo amico fotografo mi dice madonna sì però faci piano perché c'ha l'anello è fidanzata io l'avevo visto e ho detto me ne frega un cazzo dei suoi anelli non me ne frega assolutamente nulla dei suoi anelli era il sorriso più bello che io abbia mai visto ma neanche sognato visto nei film per me per quello che mi riguarda non ho i miei occhi non credo che abbiano mai goduto di tale bellezza prima d'ora e e niente la prima cosa che io sapevo che cazzo fare era così bella così che cosa la prima cosa che ho fatto non avevo monetine però lì è passato un indianino con le rose non avevo monetino volevo prendergli una rosa sai un po' all'antica cosa faccio non ho monetine lei però di fianco aveva le sigarette la sua amica quella bionda le sfilo una sigaretta all'amica pago all'indianino con una sigaretta gli dico dammi una rosa vuoi fumare? sì tieni la sigaretta dammi una rosa l'indianino se n'è andato ha preso come pegno alla rosa una sigaretta e gliela porgo e lei non dice niente cazzo io dico eh ma non grazie potresti dirmelo no? lei timidissima sarà felicissima di quello che dici visto che ce l'abbiamo dietro a questa parete lei sa benissimo come sono andate le cose cioè lei si è felice no però oltre a tutto questo hai detto che sei super innamorato della donna della tua vita super innamorato di Moara cioè per me è la donna che mi ha aperto gli occhi che mi ha fatto riscoprire l'amore quello puro e bello senza nessun tipo di eh sì sì nessuna parte tossica sono l'u... esattamente bravissimo sono... sai che poi ci sempre sì ma devi stare attento perché non sai mai se sono innamorata di te di tua fama dei soldi delle cose lì non ci sono warning è il 100% giusto lì la senti ma la cosa assurda è che lei mi ha raccontato sì che lei con la sua amica era lì per vacanza dal nulla dal nulla prima di partire perché loro sono di Zurigo e andare a Roma per farsi questa cosa perché noi siamo conosciuti lei era in vacanza stava visitando Roma lei gli dice all'amica che l'amica poi ha confermato questa cosa oh ma ti immagini che a Roma incontriamo l'attore di 365 perfetto tac hai esaudito il suo desiderio hai detto due volte bodyguard guardare il corpo a che ti serve? mi serve perché quando vado in giro molto spesso vengo assalito in Italia? in tutto il mondo io ne ho uno fisso che gira sempre con me qual è il paese dove sei più popolare in assoluto? io penso Stati Uniti Brasile Sud America Francia Francia anche? anche sì perché la serie ha spacciato Germania però Stati Uniti sì Stati Uniti sì Sud America Stati Uniti sì è molto di più ok arriviamo all'ultima domanda l'ultima domanda è molto aperta perché in modo banale potrei dirti qual è il sogno che vorresti esaudire ma te la faccio in un'altra maniera moltissime persone italiane in questo momento ascoltano questo podcast moltissime sia in audio che nel mondo video ho fatto questa domanda a Andrea Presti visto che l'hai nominato e gli ho detto sfrutta questo momento per chiedere una cosa che vorresti ricevere lui l'ha chiesto nel suo lavoro guarda io oggi ho un team mi manca un ortopedico nel mondo muscolare cioè ha fatto una richiesta precisa e dopo il podcast gli è arrivato nel senso tante persone si sono candidate e quindi lui ha come dire ha fatto un appello sentito e si è portato a casa quello che gli era utile lui è andato su quella cosa ma tu puoi farlo in qualsiasi sfera no? sapendo che questo pubblico ti sta ascoltando e secondo me piacerà molto la tua storia perché sei un ragazzo dannato ma sei buono dentro sei una bella persona dentro quindi come puoi utilizzare al meglio il pubblico che guarderà questo podcast per portare una cosa a tuo vantaggio cosa ti piacerebbe che succedesse? quello che mi piacerebbe che succedesse ma probabilmente mi piacerebbe riprendermi in Italia se parliamo dell'Italia una rivincita sotto l'aspetto artistico quindi lavorare in un film con un regista degno di nota ok quindi questo mi piacerebbe mi piacerebbe arrivare a quel traguardo mi piacerebbe ritornare perché no a parlare la mia lingua sul set ecco e non solo l'inglese ok questo è quello che ti posso dire perché no direi che è perfetto io ti ringrazio è stato un super viaggio grazie mille grazie a te grazie vi ringrazio per essere arrivati fin qua fino alla fine di questo episodio che spero vi abbia restituito stimoli delle belle vibes vi siate identificati medesimati e vi abbia potuto dare degli strumenti per potervi riconoscere per poter andare avanti per poter cadere meglio qui intorno a me vi suggerirò sempre alla fine di ogni episodio delle altre interviste affini all'argomento che abbiamo toccato buona visione